Allora domani un importante convegno dibattito aperto alla cittadinanza, di che cosa tratta e dove? Sì, domani 11 novembre alle 15.30 al seminario regionale ci sarà questo importante incontro dibattito perché si passa da un cortometraggio, cioè da un libro a un cortometraggio e il libro è intitolato il mantello, si parla di un mantello di carta e domani fra l'altro il giorno di San Martino e questo per spiegare alla popolazione e soprattutto per educarci e per educare all'attenzione al bambino con disabilità quindi parlare del valore della cura palliativa come prendersi cura del bambino e in questo giorno parteciperanno i bambini del consiglio, i bambini e le bambine del consiglio di Fano della grande, che è veramente una cosa bellissima perché parteciperanno con i loro disegni e hanno quindi è il momento lo start up di un processo educativo che vorrà partire dalla scuola e si diffonderà anche agli adulti proprio per educarci e per comprendere come il prendersi cura del bambino e della famiglia del bambino disabile o con malattia cronica possa essere veramente un valore per tutta la cittadinanza perché in quel caso veramente la vita cambia perché il bambino e la famiglia si sentono al centro di questa cura che è una cura della comunità Allora ricordiamo a chi è interessato dove e a che ora può partecipare Ecco domani, cioè domani sabato 11 novembre alle 15.30 al seminario della diocesi di Fano in via Roma Allora ricordiamo